C'è un euroscetticismo giusto, ma non dobbiamo essere né euroscettici né fautori dell'Europa, dobbiamo essere eurorealisti. L'Europa è al centro del nostro futuro. Noi a Bruxelles decidiamo tutto, non si decide più a Roma o a Catanzaro o a Reggio Calabria. Le scelte che servono ai nostri figli, al nostro popolo, alla nostra comunità, sono scelte europee. Noi lì decidiamo se la cioccolata bisogna farla con più o meno cacao, decidiamo le direttive. Le leggi europee sono sovrastanti, le leggi nazionali, e decidiamo sui fondi. Quindi il 25 maggio, si vota solo il 25 maggio e si vota sulla scheda arancione, c'è una scadenza importante per il popolo italiano, per il popolo meridionale e per il popolo calabrese. Guardi, io mi sono candidato cinque anni fa con lo slogan che è lo stesso di quest'anno, più sud in Europa, più Europa nel sud. E sono famoso, fra virgolette, per quell'intervento in lingua napoletana che ho svolto al Parlamento europeo. Era una promessa elettorale e non era un evento mediatico o folcloristico. Volevo significare a Bruxelles, ai lobbisti, alle banche, ai grandi poteri, che era arrivato un parlamentare che voleva rappresentare il sud, la comunità meridionale. Io sono orgogliosamente figlio di questa terra, sono orgogliosamente figlio di questa grande comunità. e in napoletano, che era la lingua del popolo del sud, prima che 160 anni fa arrivassero gli invasori piemontesi, in napoletano ho voluto ribadire che sicuramente a Bruxelles dovevo svolgere il ruolo di parlamentare italiano ed europeo, ma prima dovevo pensare al popolo del sud, prima a chi con il voto mi aveva consentito di diventare onorevole. Grazie a tutti.